Lo vedete l'Etna laggiù? La tradizione racconta che sia proprio il vento che soffia da quel vulcano a regalare a queste arance il loro inconfondibile colore rosso. In realtà sono il freddo notturno e l'escursione termica di questo territorio unico al mondo a far reagire le arance e a renderle così rosse. Solo le arance coltivate qui ai piedi dell'Etna ricevono la denominazione di origine arancia rossa di Sicilia IGP. La mia famiglia le coltiva da ben tre generazioni, dagli anni 70. Da allora abbiamo introdotto tante innovazioni per rendere la coltivazione sempre più sostenibile. Ma quando si arriva alla raccolta manteniamo le stesse tradizioni di 50 anni fa. Tutte le nostre arance vengono raccolte a mano, frutto per frutto, con grandissima cura e precisione. In ogni spremuta di McDonald's c'è tutto il gusto della mia Sicilia.